Tanti colleghi e cittadini presenti questa mattina al funerale del 46enne Roberto Bassin al cimitero di Sant'Anna in via Costalunga. A stringersi attorno alla famiglia del guardia fuochi, morto due settimane fa in porto, schiacciato da un camion in manovra a bordo di una nave, c'erano anche rappresentanti di Capitaneria di Porto, Polizia Marittima, Autorità Portuale e i vertici del terminalista Summer Seaport and Terminals, dove è accaduta la tragedia. L'autorità portuale di Trieste ha proclamato tre ore di lutto in segno di cordoglio verso la famiglia proprio in corrispondenza del funerale del lavoratore triestino. Il presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino, aveva invitato attraverso una nota le ditte ai lavoratori alla massima partecipazione, ricordando che è attivo un IBAN attraverso il quale è possibile sostenere la famiglia con un contributo libero. Sabato 28 settembre Roberto Bassin stava lavorando all'interno del porto quando è rimasto schiacciato da un rimorchio che stava effettuando una manovra all'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica. Le sue condizioni erano già gravissime e tutti i tentativi di rianimarlo e salvarlo si erano rivelati purtroppo vani.